parole, io sono ancora qua, e già, e già, io sono ancora qua, e già, vedete Vasco Rossi ci entusiasma anche, è vero? Ci diceva un tempo che voleva una vita spericolata, una vita piena di eccessi, però poi dopo mi pare che ha cambiato anche parere perché si è preso un raffreddore ed è entrato in depressione, veramente più che un raffreddore era una malattia piuttosto grave, che l'ha un po' depresso, e però grazie a Dio, come dico, è ritornato a ridarci belle canzoni, e poi prima voleva una vita spericolata, ma Don Michele poi che cosa voleva? Voleva qualcosa d'altro? Voleva trovare un senso alla sua vita. Ma voleva trovare un senso alla sua vita, ma noi questo percorso di trovare un senso alla vita...